Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono DayTV e oggi siamo arrivati su questo bel gioco Wow, proprio bello Si chiama Cat Mario, allora Cat Mario, sembra Mario Sembra, sembra eh Cosa dovrebbe essere questa cosa Allora, eh Ma, sono, è un fantasia, ma non ce l'ha What? Cosa sta succedendo ragazzi Ma perché non può Cosa vuol dire Ma insomma, non doveva venire uno fungo Quando Cosa cazzo Perché c'era il fumo Così che era quella roba di rega Vabbè, andiamo, va Cosa cazzo era Ma, ma perché raga Ma che, che Ma è Cat Mario Ma, scusa, ma cosa c'è sta roba qua Oddio Non mi ricordavo Ma, no Ma, scusa Vabbè Per di qua si va, quindi non ha senso Vabbè, aspettiamo che passi A meno Ok Ok Siamo che passi a meno Ok Andiamo Ma, ma cosa c'è Ma sei in serio Dai ragazzi Adesso devo prendere una bella Adesso devo prendere una bella Oppure oppure Ma non posso Così Ecco Ma, ma che Ah, quindi voglio prendere le mie trappole Ok Allora Passiamo Posso prendere una bella rincorso Ok Ah, c'è poi C'è poi una bandiera Oddio Ma, scusa Ma Qui ci sono le trappole Allora Non lo sapevo cosa quella qua Allora Qua c'è una trappola Sicuro E E Volevo Volevo vedere se ci fosse dato Un cubetto Vedate che ho portato la bandiera È un Pettante Allora Qua non c'è niente Va bene Ok Continuiamo tutto Prima che Succede Cos'è 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 No no sbagliato Ok Ok Ma è un troll È tutto un troll Questo gioco E stiamo all'inizio Però Non è Come devi fare Ah ah ho capito Come ti fai Così Ok Ok Lo sapevo che c'era qualcosa alla fine Lo sapevo Lo sapevo Io lo sapevo questa cosa qua Che culo Cosa mi c'è qua Cosa cazzo era Ma cos'è Vabbè Allora Uno di questi tubi è sbagliato Sì Mi suppongo Sì Ok Eccolo giusto E quando arrivano ragazzi Cosa cazzo era Fa così Fa così Ok Ci sono le punte Ok Quindi è tutto un troll Quindi andiamo ad andare sul terzo Ok Soltiamo Ah Cosa c'è il pantalonino Ok Vai 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 Sì Abbassiamo il mio Sì No 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 Dai Spalle Vabbè Eh Dai X X Ma che cazzo Cioè mi fai più inca Guarda il gioco Che 12 ore per tornare Cazzo mi fai più incappella Poi giocato in cap Mario Non fai incappella Che due coglioni ragazzi però Vabbè Eh Se teniamo la calma Ce la facciamo Ok Vai Oh Ce l'ho fatta È una festa Sì E che festa sia Ok Eh Perfetto Perfetto Porca Come cazzo Mi sono salvato Eh Oh cazzo Oddio Oddio Come dovrei fare Sta parte Forse Grazie Allora Stavo dicendo Come si può fare Sta parte Ma Troppo veloce Ragazzi Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Tipo Sto volendo Ah Quindi Un coglione Ok Ovviamente ci sono sempre le parti Noiose No Eh Però Potrebbe essere Fattibile X X Stavo dicendo Potrebbe essere Fattibile Ma ragazzi Va troppo veloce Non è possibile Niente È impossibile È impossibile È troppo forte Ragazzi Ragazzi Non è possibile Però Ho capito Come andare Però È impossibile Non è possibile Porca troia Ragazzi È impossibile Alta Alta Però Gatto di merda Piglia Schiaffi Comunità Veramente Non le capisco X X Ok Ultima E poi Mi sono rotto Le scatole Vaffanculo Vaffanculo Ultima Ultimissima Ultima Io Credo di aver capito Aspettate Che vai Ragazzi Capito Mi ha rimedito Cato nel cubo Però ho capito Dai Almeno È un passo Avanti Perfetto Ragazzi Io ero lì A casa Per due ore Ultima 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 No Devo riparmi Da qua Ok Vai 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 Mario Mario Ah Devo morire Ma Due Devo morire Qua Stanno Anche Vabbè Ragazzi Se vi è piaciuto Mettete Un bel Iscrivetevi Ciao No